Un affare che nei casi più clamorosi arrivava a fruttare persino 10.000 euro al mese. Un giro enorme di denaro. Non a caso, negli ultimi anni, le operazioni già condotte dalla Guardia di Finanza sul territorio avevano consentito di scovare contributi indebitamente percepiti per 5 milioni di euro. È sempre sullo stesso filone investigativo che si staglia il nuovo blitz delle fiamme gialle, reso noto ieri con la notifica di svariati provvedimenti di sequestro e acquisizione di documenti presso le sedi dei centri di assistenza agricola, quelli che di fatto gestiscono le pratiche per le richieste di contributi per il settore. Un sistema ormai collaudato, finalizzato all'ottenimento dei fondi erogati dalla GEA. Due le direttrici della truffa. Da una parte l'inserimento nel sistema telematico di terreni a beneficio di alcune ditte che in realtà non erano di loro proprietà. Il legittimo proprietario scopriva la truffa solo quando, presentando la sua domanda, quelle particelle risultavano già accreditate. Nel Calderone ci sono quindi terreni appartenenti a persone decedute di cui spesso gli eredi sconoscevano l'esistenza o appezzamenti di pubblica proprietà. Sull'altro versante c'è invece l'interessamento della malavita organizzata, quella messa nel mirino dal protocollo di legalità del Parco dei Nebrodi, che minacciava i proprietari e scippava loro i terreni o si inseriva nelle concessioni con gli enti pubblici. In ognuna delle ipotesi, quelle particelle servivano per aumentare il punteggio che, secondo precisi parametri di estensione e destinazione dei terreni, consente di scalare posti in graduatoria, determinando l'ammontare del contributo. Sbocco finale dell'attività della Guardia di Finanza quindi, così come già avvenuto in passato, non solo le contestazioni penali nei confronti degli artefici della truffa, ma anche quelle di fronte alla Corte dei Conti, con l'avvio dei procedimenti per il recupero delle somme indebitamente incassate.